Buongiorno, benvenuti all'anteprima del telegiornale delle 13 eventi, quest'oggi è con noi Franco Stogaus che è il vicepresidente di Trieste Is Rock, grazie per essere tornato nei nostri studi per parlare di un appuntamento, tra l'altro è un appuntamento storico della vostra associazione, il concerto Light of Day che si terrà dopo domani, il 2 di dicembre alle 20.30 in Sala Luttazzi, il concerto Light of Day credo sia arrivato all'undicesimo, con due anni di stop dovuti alla pandemia, adesso riprendiamo, cambiando anche sede, eravamo per dieci anni al Teatro Verdi di Mugia e quest'anno invece ci trasferiamo, grazie al Comune di Trieste, alla Sala Luttazzi per un nuovo inizio, per cominciare di nuovo questa avventura con gli amici americani che vengono ormai da quasi vent'anni in Italia. Spieghiamo questo perché è molto importante anche lo scopo di questo concerto, che è un concerto, se non ricordo male, è un concerto ispirato a Springsteen, comunque alla musica della East Coast, che però ha anche una forte valenza sociale perché nasce negli Stati Uniti anche come momento di solidarietà. In che senso? Tutto è nato negli anni 90, quando un produttore musicale del New Jersey, giovane, amico di Springsteen, gli è stato diagnosticato il morbo di Parkinson e da lì è cominciata una raccolta di fondi tra gli amici, musicisti e artisti della zona, per raccogliere fondi, per aiutare la sua terapia che appena cominciava. La cosa è andata avanti, essendo anche amico di Springsteen, amico personale, Bob Benjamin si chiama, questo produttore che ha avuto modo anche di conoscere poi negli anni. Praticamente Bruce Springsteen è andato come una specie di voliano ovviamente, grazie alla sua fama, attorno a sé ha raccolto decine di musicisti negli anni. La manifestazione si chiude a Asbury Park in gennaio con un tre giorni festival, dove partecipano tutti o quasi tutti quelli che hanno suonato durante l'estate e l'inverno alla raccolta fondi per la ricerca sul morbo di Parkinson e parecchie volte, direi quasi un 70% compare anche Springsteen, quando è libero dai suoi impegni e quindi c'è un gran finale davvero emozionante. E da una ventina d'anni, un po' meno, avvengono in Italia periodicamente. Noi dal 2010 li abbiamo chiamati, appena è nata l'associazione Triestis Rock, li abbiamo chiamati e loro sono venuti volentieri. Da quelle volte è nata questa amicizia, questa collaborazione che dura appunto dal 2010. Lo spettacolo è molto molto intimo, molto particolare, sono cinque musicisti seduti in semicerchio sul palco con la loro chitarra. Questo è un po' la chitarra. Faccio vedere, faccio vedere, o se vuoi fare, sì sì sì, faccio vedere anche la, eccola qua. Questa è proprio il, diciamo, il concept visivo anche. La locandina di quest'anno, ecco si vede appunto questo nel finale, quando poi salgono tutti sul palco, anche gli amici che suonano prima. E praticamente ci sono questi musicisti seduti appunto a semicerchio, ciascuno di loro suona un brano alla volta, a rotazione, mentre gli altri appunto interagiscono, suonano con lui. Questo per un'oretta e mezza, poi c'è il gran finale. Propongono i loro pezzi ovviamente, quello che è da sottolineare è che arrivano completamente senza nessun rimborso, quindi solamente rimborso spese, ma suonano proprio per raccogliere i fondi. Quindi un appello che faccio a tutti gli appassionati di venire per supportare questa iniziativa, perché tutte le spese fisse che dobbiamo sostenere per questo concerto verranno detrate dall'incasso, quindi sarebbe un peccato ridurre la cifra sensibilmente. Quindi più gente c'è, più beneficenza facciamo e diciamo è meglio è per, anche per questi musicisti che affrontano un tour davvero, io non so come fanno, è molto impegnativo, impegnativo perché sono partiti l'altra settimana, fanno tutti i paesi nordici, poi arrivano e hanno cominciato a dire Irlanda, poi suonano in Inghilterra, poi tutti i paesi nordici, in Germania, in Belgio, Svizzera e poi arrivano qui e quindi è una cosa, in 18 giorni fanno 15-16 concerti. Tutti questi, uno ogni sera in pratica. Praticamente uno ogni sera con due o tre giorni di pausa e quindi arrivano anche stanchi, è un impegno notevole, quindi invito tutti a venire dopo due anni di stop, questa è la volta per rivedere dei vecchi amici. Tornano tutti quelli che c'erano già, tranne il nome più di richiamo quest'anno, abbiamo Elliot Murphy e Gio D'Urso che è l'anima di questo tour ha chiamato Elliot Murphy, per chi lo conosce non c'è problema, è una vecchia guardia del rock. Lui è new yorkese, ha suonato inizi anni 70, fine anni 60, ha cominciato la carriera, ha suonato assieme a Lou Reed, assieme a Springsteen e poi si è trasferito a Parigi dove vive da anni e quindi arriva direttamente da Parigi per fare le quattro date italiane e si unisce a loro. Quindi un invito a venire a vederlo se non altro per Elliot Murphy che tra l'altro ricordo era stato sul palco a Rocco, l'abbiamo chiamato noi, sapendo dell'amicizia con Bruce, è venuto appositamente quella volta da Parigi e ha suonato sul palco con Bruce a Rocco durante il bis, non so se lo ricorda, Born to Run c'era anche Elliot Murphy che ha fatto finta di non ricordare le parole e quindi è stato un momento anche che la conoscono ovviamente tutto il mondo, gli ha fatto finta di non ricordarsi le parole e quindi è stato molto anche divertente. Anche a livello, la raccolta per quanto concerne la lotta al morbo di Parkinson è a livello internazionale? Sì, i fondi vanno tutti devoluti alla Light on Day Foundation, con un bonifico regolare e tutto, tracciabile ovviamente e finiscono tutti in questo fondo che ha già raccolto in questi anni, non ricordo quanti, ma milioni di dollari, quindi è una cosa che va sicuramente a finire bene. E' universale, diciamo così, questo appuntamento scaglionato. Sì, tutta l'Europa, tutti gli incassi finiscono in questa… Posso chiedere, vedo sul manifesto, c'è dedicato a Ruggero, posso chiedere chi è? A Ruggero, lo dedichiamo a lui, era una delle colonne Triestis Rock, il mio amico personale d'infanzia, l'avevo chiamato io a collaborare al Light of Day, al Triestis Rock, quello che facevamo in quegli anni, eravamo molto impegnati, 6-7 anni fa, il giorno dopo del concerto, lui è andato a salutare gli americani che partivano da Mugia, perché era così, lui voleva seguirli dall'inizio alla fine, era il nostro press agent, era quello che si dava l'anima per far sentire i musicisti a proprio agio e andando a Mugia la mattina ha avuto un incidente stradale morto, quindi è stato un dramma per tutti, gli americani l'hanno saputo la sera dopo quando suonavano, tutti che piangevano, è stato davvero qualcosa di toccante, quindi ogni anno lo ricordiamo, ogni anno è il minimo. Allora, che cos'è Triestis Rock? Triestis Rock è un'associazione culturale e musicale nata nel lontano 2010 da un gruppo di amici che coprono tre generazioni ormai di età, appassionati di musica rock e uniti da questa passione abbiamo deciso di cercare di portare anche a Trieste nel panorama musicale dei tour internazionali, tutte le date che arrivano in Italia di artisti di nicchia, cercare di proporli anche a Trieste che prima appunto questa possibilità non c'era. ci siamo riusciti, abbiamo lavorato molto nei primi anni grazie appunto alla possibilità di avere dei locali dove poter svolgere regolarmente questa attività, purtroppo già prima della pandemia c'è stato un calo sensibile di posti dove poter chiamare gli artisti e adesso diciamo dopo quando abbiamo ripreso praticamente non c'è un locale che non sia la Sala Luttazio o il teatro Miela dove si possono fare concerti. Questo è un problema, no? Sì, per i giovani è una roba veramente… Prego? Per i giovani è drammatico direi perché un musicista non ha proprio un posto dove esprimersi. Ma qui entreremo in un terreno minato per certi aspetti perché poi le possibilità, io mi chiedo molto spesso girando per la città anche vedendo insomma degli hangar abbandonati eccetera, insomma delle volte mi chiedo come mai non vengano in qualche modo messe a disposizione proprio di realtà come la vostra, come altre, anche di realtà giovani che hanno voglia di esprimersi eccetera. Sì, anch'io non voglio aprire un campo minato, però ad esempio è stata demolita questi giorni, hanno iniziato la demolizione della Tricovic, per anni si parlava di riuscire a fare un polio di attrattivo per i giovani, sale a prove, tutte le arti possibili, non solo musica, purtroppo non c'è stata la possibilità di qualche imprenditore privato di farsi avanti e questo probabilmente ha chiuso definitivamente quel capitolo. Io posso dirlo perché lo dico ogni volta, io ogni volta che passo davanti al gasometro mi dà un po' di nervoso perché è come se noi avessimo in piccolo una Royal Albert Hall già pronta. Una round house addirittura, perché la round house di Londra era proprio un vecchio gasometro. Vabbè, però mi pare di capire che la cosa è maggiormente sentita, questa carenza di sale e di posti, perché in realtà la scena musicale triestina è ricchissima. Ora io conosco poco per dire la verità, perché io mi fermo fino ad un, secondo me è già Sammy Davis Junior e Heavy Metal, ma questo è un altro discorso. però conosco perché la gente mi racconta, conosco anche ragazzi che suonano nei gruppi eccetera, quindi c'è, mettiamola così, ove ci fossero degli spazi non sarebbe difficile riempirli, né di chi suona né con gente che poi va a vederli. Sì, perché abbiamo dei talenti davvero eccezionali su tutti i generi musicali, la scuola di musica ha sfornato in questi anni davvero dei talenti, dei prodigi. Infatti in apertura avremo già venerdì due musicisti di Trieste che hanno fatto questo progetto, Peace and Love Brotherhood. diciamo che i Black Keys e quelli di Jack White, i White Stripes, sono praticamente superati ormai, loro due sono davvero in gamba, chitarra, batteria, faranno un'apertura tutto particolare e psichedelica, ma sono un esempio, la punta degli Iceberg ne abbiamo per tutti i generi e tutti quanti mi chiedono, perché mi conoscono per via dell'attività, mi dico dove possiamo facci suonare, ma purtroppo d'estate, Castello di San Giusto, abbiamo riuscito a fare parecchi concerti e abbiamo chiamato i ragazzi di Trieste a fare le aperture degli artisti più famosi, però è un periodo ristrettissimo durante l'anno, quindi speriamo. Basterebbe mettere a posto qualche hangar, qualche cosa in Portovecchia, quello sarebbe anche, ma non lo so, insomma, staremo a vedere perché… Speriamo che ci siano, in Portovecchia ci sarebbe, trovare uno spazio sarebbe l'ideale, perché è vicino, in centro, si potrebbe suonare anche all'apertura, creare una piccola arena per fare spettacoli, una cosa stabile. Mi viene in mente adesso, ve la butto così, ma penso che sarà una strada che avrete anche cercato, immagino. Il teatrino Basaglia, quello del… Abbiamo fatto quest'estate in collaborazione, abbiamo un festival che si chiama Colling the Boss, già anche questo da dieci anni, che segue la venuta di Springsteen a Trieste, in cui celebriamo quel ricordo e quest'anno abbiamo collaborato con la cooperativa che gestisce, abbiamo suonato all'esterno del teatrino, però c'è la possibilità di fare qualcosa anche all'interno, sì, senz'altro. Quello è un luogo sul quale forse bisognerebbe un po' meditare di più, però insomma, veramente toccheremo… Lo conosciamo, cercheremo di usarlo il più possibile. Non è… è una cosa che un po' mi incuriosisce per dire la verità, non è propriamente ciò di cui voi vi occupate, però insomma, questa storia per esempio del ritorno del vinile, no? Immagino che anche per voi ascoltare determinate incisioni sul vinile ha tutto un altro significato rispetto al CD o rispetto al… come si chiama qua? Streaming. Lo streaming, eccetera. Ne parlate tra di voi? Cioè vi aspettavate, vi sareste aspettati un ritorno? Ma è già da anni che sta ritornando, infatti io conosco parecchi amici, c'era la fiera del disco domenica scorsa, sono andato lì giusto un attimo e ho parlato velocissimo, in 5 minuti tutti quanti mi hanno detto, tutti che conoscono, mi hanno detto, ma pensa a te, avevo venduto tutti i miei vecchi leonplay, ho ricomprato tutti in CD e adesso li sto ricomprando in vinile, questa la dice Luga sul fatto… Questo vale soprattutto penso per gli appassionati degli anni miei, gli anni 60, anni 70, dove comprare un disco era come comprare un libro, era qualcosa di importante, ti mettevi lì, te lo studiai per una settimana, dalla copertina, dai testi, lo memorizzavi, no? E questo era il pregio del vinile. Già i CD hanno portato a un'usa e getta, perché il fatto che sono piccoli oggetti, eccetera, sono diventati ormai l'unico modo per acquistare musica per una ventina d'anni e poi siamo andati ancora a peggio, perché con lo streaming uno lo trova tutto gratis e non approfondisce, dopo un minuto non mi piace e basta. Sì, è vero, questo è anche vero. Questo è un peccato. Chissà poi che non ritornino anche le audiocassette, quello sarebbe poi… Sono già sul mercato, sì. Abbiamo tempo ancora per una ultima considerazione, è ovvio, però lo ribadiamo, c'è voglia di tornare a… L'abbiamo visto quest'estate, sì, quest'estate era proprio… si sentiva nel pubblico la felicità di tornare di nuovo a stare assieme sotto un palco, hanno messo le sedie quest'anno perché c'era di nuovo il problema sempre del distanziamento e tutto, ma alcuni concerti le sedie sono saltate, quindi adesso siamo in attesa della stagione prossima, quest'anno era un po' di rodaggio, ci sono stati grandi eventi, ma il prossimo anno siamo in attesa anche di Springsteen, quindi speriamo di tornare come ai vecchi tempi. A Trieste, no? Magari. A Ferrara, a Ferrara. A Ferrara, va bene, insomma, così puoi vedere anche a Ferrara. Un posto più vicino, poi gli appassionati sanno dov'è. Penso che Cosolini avrà già il… Anch'io, sì. Una decina in sacocia. Potete andare a Ferrara, è una città bellissima, tra l'altro, che vale la pena di vedere. Ho, ultima informazione, i biglietti, così facciamo magari rivedere. I biglietti sono in vendita da Ticketpoint, anche online, quindi non Ticketpoint, ma Ticketpoint qui di Trieste, e li potete sennò trovare il giorno del concerto alla casa, senso altro. Costano 25 euro, e vanno tutti in beneficenza. Ecco, ricordate anche questo, che l'appuntamento è dopo domani, venerdì 2 dicembre, alle 20.30 in sala Luttazzi, e ricordatevi anche che il concerto Light of Day è tutto in beneficenza per la lotta contro il morbo di Parkinson. Grazie a Franco Stogaus, vicepresidente di Trieste Isroc, per essere tornato nei nostri studi. Buon lavoro, ricordatevi l'appuntamento di dopo domani. Adesso noi andiamo in pubblicità e poi il telegiornale delle 13.20. Buongiorno telespettatori di Telequattro e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. È stata siglata nella notte l'intesa che prolunga l'attività dello stabilimento Varsila di Trieste. Si prosegue fino al 30 settembre, nel frattempo si cerca un nuovo soggetto industriale. Fino a quella data, il gruppo finlandese che ha deciso di chiudere la produzione di motori allo stabilimento di Bagnoli, si impegna a non riattivare alcuna procedura di licenziamento collettivo. Il documento conferma l'intenzione di Varsila di mantenere in Italia le attività legate a ricerca e sviluppo e service del sito di Trieste. Contestualmente viene avviato un percorso di reindustrializzazione del sito con l'obiettivo di tutelare i posti di lavoro sia dei dipendenti della Varsila sia di quelli dell'indotto. Un risultato, scrive l'assessore regionale lavoro, lei se Rosolene, per il quale ringraziamo il Ministero delle Imprese e delle Made in Italy che ha convocato su richiesta della Regione il tavolo di crisi e in particolare il Sottosegretario Bergamotto per la disponibilità e l'attenzione dimostrata su questo tema. Adesso sulla questione vi facciamo sentire un'intervista che Laura Bucarella ha realizzato con Marco Relli della CGL. Accordo raggiunto nella notte su Varsila a Roma al tavolo del Ministero. Marco Relli della FIOMCGL, come è andata? È stata una discussione molto approfondita perché chiaramente l'azienda aveva una linea che chiedeva degli impegni ma lasciava molto spazio alle interpretazioni, noi abbiamo voluto essere molto esemplificativi e quindi l'azienda ha praticamente sottoscritto il fatto che terrà la produzione fino al 30 settembre e quindi non aprirà nessun tipo di procedura di licenziamenti fino a quella data, quindi a quel punto abbiamo questa tempistica, quindi da là poi si spera di aver già in tasca qualche situazione veramente importante e seria e credibile di reindustrializzazione, quindi in tutto il periodo e questo percorso lo faremo e il punto essenziale sarà la gestione governativa che dichiaratamente ha dichiarato appunto il sito strategico per la città ma per la nazione e quindi il governo sarà il punto focale di questa partita. A gennaio partirà il primo corridoio doganale internazionale europeo che collegherà il porto di Trieste con l'interporto di Furnitz in Austria. Questo processo prevede un risparmio di tempo in quanto i controlli saranno effettuati a destinazione, salvo quelli obbligatori, sempre svolti dal porto di Trieste. Vediamo il servizio. Partirà a gennaio e collegherà il porto di Trieste con l'interporto di Furnitz in Carinzia, il primo corridoio doganale internazionale europeo. I container in arrivo saranno caricati direttamente dalla nave al treno cargo e prendere la strada del nord e centro Europa senza controlli doganali che verranno effettuati all'arrivo in Austria. Un vantaggio importante per la merce che viaggerà più velocemente con un alleggerimento delle procedure amministrative nonché una riduzione dei costi. Il tutto considererà di aumentare l'intermodalità mare-ferro. Saranno effettuati al porto di Trieste i controlli di sicurezza e quelli obbligatori, per esempio i controlli sanitari. La collaborazione coinvolge OBB, le ferrovie austriache attraverso Rail Cargo Group, l'autorità di sistema portuale del mare adriatico orientale, Adriafer, agenzia delle dogane italiane e austriache, governo della Carinzia. Domani, alla firma dell'intesa a Vienna, saranno presenti anche l'ambasciatore d'Italia in Austria Stefano Beltrame e il ministro delle finanze austriaco Magnus Brunner. Con il primo corridoio doganale internazionale europeo tra due stati, velocizzeremo le procedure sia in import che in export, ha detto il presidente dell'autorità portuale Zeno d'Agostino, proseguendo verso un nodo importante dal punto di vista ferroviario per Trieste ma anche per l'Austria e per tutto il centro ed est Europa. Stefano Vesintin, presidente dell'associazione spedizionaria del porto di Trieste, confida nel fatto che la clientela austriaca utilizzi questa opportunità e consideri il nostro porto con sempre maggiore attenzione. Se nell'immediato la categoria potrà effettuare meno operazioni doganali a basso valore aggiunto, c'è fiducia che in breve tempo il volume complessivo delle spedizioni di merci austriache in transito a Trieste andrà ad aumentare, con beneficio per tutto il sistema. E' ancora scontro politico attorno all'accoglienza dei richiedenti asilo in città. Il sindaco chiude ad ogni apporto dopo i danni al campo scauto, luogo oltretutto saturo. La politica locale rimane fortemente divisa sulla destinazione o meno di un luogo deputato ad ospitare le persone che ad oggi stazionano in Piazza Unità. La porta chiusa del sindaco di piazza nei confronti di chi chiede al comune di mettere a disposizione delle strutture e di utilizzare risorse per gestire in modo dignitoso il problema di senza tetto e migranti, senza un posto dove dormire, non è che l'ennesimo atto di un problema ben noto e che continua a rappresentare terreno di scontro politico e non solo. Centrodestra e centrosinistra si dividono sui modi per governare il flusso di immigrazione in entrata a Trieste. Associazioni di cittadini si sono mobilitati per chiedere alle amministrazioni di intervenire. Gli stessi enti e deputati all'accoglienza dichiarano da tempo di aver esaurito i posti a disposizione e di essere in sofferenza visti gli alti numeri di presenza nel capoluogo. È stata una proposta stessa dell'amministrazione, quella di Via Gioia. Adesso dopo forse qualche ingerenza da qualche parte politica viene fuori che non solo non si fa più, ma non si fa più assolutamente nulla, cioè neanche in un altro luogo. Questa notte è stata particolarmente fredda per Trieste e io vorrei invitare veramente i cittadini che ci stanno ascoltando a immaginarsi cosa abbia voluto dire per tante persone purtroppo dover dormire all'aperto questa notte. Sono assolutamente convinto che queste persone non devono girare per la città così come fossero in gita, non devono d'estate mettersi in circolo e giocare a pallavolo in Piazza Unità, non devono deturpare la nostra città. Quindi per quanto mi riguarda io li sistemerei, spenderei qualche milioncino nella caserma di Banne, li metterei nella caserma di Banne, esercito attorno e tu entri qua e non esci di qua finché non si capisce poi cosa puoi fare, cosa non puoi fare, se hai diritto di stare sul paese o no. Gli recenti fatti riguardo il campo scout di Camposacro, campo gestito dalla Caritas, sono solo gli ultimi in ordine di tempo e metafora di una situazione che se non verrà riportata su volumi contenibili, rischia di sfuggire di mano. Il campo scout inoltre assolve un'emergenza vedendo riparametrati i propri spazi. Quel luogo nasce con una capienza ben al di sotto dei numeri attuali, 90 di partenza rispetto alle oltre 300 persone che attualmente lo frequentano. Ora il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale, ci aspetta l'ispettore Roberto Leonardi, buongiorno. Salve e buongiorno a voi, dunque mattinata nella norma, nulla di particolare nonostante il vento di Bora, l'unica cosa che volevo segnalare è che abbiamo fatto abbastanza rimozioni sul Viale 20 Settembre per quanto riguarda la Fiera del Sì di Colò, almeno come mi hanno detto i colleghi smontanti, una decina tra veicoli a due ruote e veicoli a quattro ruote, adesso stiamo ultimando perché c'è appunto l'allestimento della Fiera che incomincia domani fra l'altro. Sì, 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 si comincia, secondo me un po' prima rispetto, sì no beh è l'uno, sì giusto, è l'uno, sì è l'uno, no? Quella è l'altro. Sono entrando a fare la spazio temporale. Quella è l'altro. Ok, bene, perciò niente, stiamo rimuovendo ancora un po' di veicoli sul Viale 20 Settembre, per altre cose, cose che riguardano la viabilità ordinaria, proprio per la giornata di oggi non c'è nulla da segnalare. Ecco, ricordiamo anche ai nostri telespettatori che i divieti di sosta in ragione della Fiera di San Nicolò riguardano anche alcune vie limitrofe al Viale, quindi facciamo attenzione anche a quello, perché poi c'è anche questo da sottolineare. E rispettore, grazie, buona giornata e buon lavoro. Niente, si figuri, salve e buona giornata. Tra l'altro, con tutta probabilità, noi domani mattina nel corso di Sveglia Trieste saremo anche alla Fiera di San Nicolò per farvi vedere un pochettino quello che c'è in giro, diciamo così. Grave incidente sul lavoro la notte scorsa in una fabbrica che si trova nella zona dell'autoporto di Gorizia. Un 36enne è rimasto schiacciato al torace da una pressa immediata, la chiamata d'aiuto da parte dei colleghi al 112. Gli infermieri della Sores FWG hanno inviato tempestivamente sul posto gli equipaggi di un'ambulanza e di un'automedica. L'uomo è stato stabilizzato e quindi trasportato con l'ambulanza, con medico a bordo, all'ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia in codice giallo. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Gorizia per favorire i soccorsi. Le indagini dei carabinieri e degli ispettori dell'azienda sanitaria mirano ad accertare le cause dell'incidente e il rispetto delle procedure anti-infortunistiche. Lunedì la Compsal deciderà se scendere in sciopero. Per quel giorno è in programma un ulteriore incontro con l'assessore alla cultura Giorgio Rossi che in merito alla questione del contratto 5 euro lordi all'ora agli addetti ai musei comunali ha espresso solidarietà ai lavoratori e Rossi sta cercando appunto una soluzione. Ma vediamo, siamo tornati quest'oggi nella sede della Compsal anche per vedere quello che è successo dal giorno della denuncia delle condizioni di questo contratto. La Compsal che nei giorni scorsi aveva sollevato il problema del contratto euro e promos per gli addetti ai musei comunali ha incontrato stamani l'assessore alla cultura Giorgio Rossi che ha ribadito la volontà di Palazzo Sipario di venire incontro alle esigenze dei lavoratori. Ci siamo lasciati dicendo che io ho un'assemblea con i dipendenti lunedì pomeriggio se entro lunedì pomeriggio lui mi dà delle risposte confortanti probabilmente non faremo sciopero se no altrimenti saremo costretti a fare la prima giornata di sciopero con una manifestazione spero che mi diano il permesso per Piazza Unità. Secondo la Compsal tuttavia ridurre la questione ai compensi bassi ricevuti dagli addetti 5 euro lordi all'ora rischia di sviare l'attenzione da un altro problema non da meno. Un contratto è regolare. Quello che noi chiediamo è diciamo soprattutto che quello che viene previsto da questo contratto non è quelle che le mansioni che svolgono queste persone. Queste persone svolgono delle mansioni che sono molto qualificanti, specializzate e invece questo contratto prevede semplicemente una vigilanza privata. Vero è che chi lavora in questo settore da più anni si è visto progressivamente erodere il proprio stipendio ma anche la considerazione stessa per il proprio lavoro. Col tempo la paga è stata decurtata, in qualche maniera anche i livelli contrattuali sono cambiati sicuramente hanno un senso migliorativo ed è una cosa che ci sentiamo un pochettino lesi soprattutto nella dignità, nella nostra dignità ed è una cosa alla quale ormai un pochettino ci siamo stufati qui a Trieste ma se si va a vedere, ci si va a informare è da Milano a Marsala praticamente che ormai c'è una situazione che diventa sempre di più ogni giorno insostenibile. La speranza è che vi sia certo un adeguamento dei compensi, la paga minima di 9 euro di cui si discuta a livello nazionale tenuto conto che comunque in altri paesi si arriva a 12 ma anche appunto una maggiore considerazione del loro ruolo. Noi siamo accoglienza turisti, spieghiamo la struttura, è come se quasi fossimo a casa nostra la gente la facciamo entrare a casa nostra e siamo il miglior biglietto da visita della città secondo me dato che decantiamo tanto il discorso della città turistica, Trieste. Insomma dal mio punto di vista, proprio perché noi siamo i primi a metterci la faccia, trattati in questa maniera qua secondo me non ci fa una bella figura. Siamo stati a Servola all'interno del Museo dei Presepi in via dei Giardini, un viaggio nella storia della nostra città attraverso le ambientazioni ricreate con le statuine, le scenografie tipiche di quella che per certi aspetti può considerarsi una vera e propria forma d'arte. Siamo in una bellissima stanza del Museo dei Presepi e l'immagine è stretta su Piazza Sant'Antonio nei primi del Novecento perché questa stanza è interamente dedicata a riscoprire la Trieste in varie epoche storiche. Questa è una delle sale del Museo dedicata alla vecchia Trieste, sono tutti scorci della vecchia Trieste, ambientazioni con le quali abbiamo creato i presepi. Quello che è importante è soprattutto quando vengono le scuole, noi insegniamo un po' di storia della città e noi possiamo vedere la vecchia piazza Sant'Antonio con il canale che arrivava fin sotto la chiesa di Sant'Antonio e i barconi che oggiotti che portavano le angurie. Sono stati anni particolari in cui ci siamo dedicati a fare queste ambientazioni, per esempio la città vecchia, piazzetta Trauner dove nel Seicento c'era il primo ghetto degli ebrei, la piazza Unità, la vecchia piazza Grande con le costruzioni che c'erano nel 1700. Spostiamoci, andiamo verso queste piazze. Allora, qui siamo su piazza Babacan con l'arco di Riccardo. Questa è stata ricostruita tali e quali come era e come è tuttora perché non è stata modificata nel tempo, è rimasta così. Anche queste sono bellissime statue fatte da una sora di Trieste. Una particolarità del museo è che sono tutte opere che provengono dalla città di Trieste. Fatte a Trieste o da Tristini. E vi ricordo che scatterà anche l'appuntamento con i vostri presepi che potranno essere fatti vedere, mi rendo conto della bruttezza dell'espressione, comunque durante il nostro telegiornale. Saremo più precisi questa sera, vi daremo tutti quanti i raguagli. Possiamo chiudere con il meteo. Allora, una depressione sul Mar Ionio e la presenza di un anticiclone sulla Russia determineranno l'afflusso sul Friuli Venezia Giulia di correnti umide in quota e vento di bora nei bassi strati. Per domani si prevede su pianura orientale e costa cielo in prevalenza nuvoloso e soffierà bora moderata con raffiche sostenute specie verso Trieste. Sulla zona montana cielo in prevalenza coperto, soffierà vento da nord a nord est moderato in quota e in giornata sarà possibile nevischio ai confine con l'Austria, a partire da 500-600 metri circa. Nel fondo valle del Tarvisiano possibili nebbie nella notte. È tutto dopo la pubblicità. Per chi ci segue in diretta parleremo con Julian Sgerla di un appuntamento teatrale con un testo di Ed Davidiz in programma al Teatro Bobbio nei prossimi giorni. Ci fermiamo per la pubblicità, poi torniamo. Allora, come è annunciato siamo in compagnia di Julian Sgerla, che ringrazio per essere tornato nei nostri studi, per parlare di un appuntamento che è in programma la prossima settimana, il giorno 7 di dicembre, al Teatro Bobbio. Si chiama Adios Mamà Carlotta, con una T sola tra l'altro, ed è il musical dei due mondi, è il sottotitolo. È scritto per quanto riguarda il libretto e le liriche da Ed Davidiz. Le musiche originali sono di Piero Zannone e Julian Sgerla è il regista. E come si capisce anche dai favoriti, è anche uno degli interpreti. Allora, intanto ne discutevamo giusto un attimo prima di cominciare la diretta. Bisogna dire che deriffa o deraffa tutto ciò che ha a che fare con Gliasburgo, con Carlotta Massimiliano per quanto riguarda una dimensione più triestina, con Sissi per quanto riguarda una dimensione un attimo più ampia, esercitano sempre un fascino non indifferente. Sì, un fascino che… qual è la telecamera? Quella là. Quella là, eccola, ciao. Il professionista, giustamente. Giustamente. È un fascino non soltanto da un punto di vista di qualcosa di storico, ma è un fascino andare proprio all'interno della vita di queste persone che sono realmente esistite e che hanno caratterizzato e sicuramente influenzato la storia della nostra città. Quindi è un guardarsi indietro per guardare anche avanti. Il lavoro storico che c'è alla base di questo spettacolo e che è stato realizzato da Edda Vidiz, che ha molto ricercato tutte le fonti proprio sulla figura di Massimiliano, andando anche a scovare brani inediti che erano stati scritti all'epoca, per esempio, quando Massimiliano era andato poi in Messico, divenendo imperatore. Quindi è un lavoro di ricostruzione storica che fa piacere, credo, moltissimo a chi abita in queste zone, perché si scoprono delle cose in più che magari non si conoscevano, anche dei piccoli dettagli intimi, privati di questi personaggi. Ma sicuramente è un modo anche attraverso la musica per fare un viaggio attraverso brani che all'epoca di Massimiliano venivano cantati e suonati e sono dei pezzi davvero meravigliosi. Tra l'altro, se vogliamo, dal punto di vista narrativo, ci sono anche in questo caso tutti gli elementi, la storia d'amore dei due, la fine di Massimiliano, c'è il vilen che esumo anche dal manifesto, sia Napoleone III, la follia di Carlotta, poi è supposto che si possa parlare di follia, c'è tanto da raccontare. Sì, ci sono molti elementi, diciamo che la figura di Carlotta è centrale in questo spettacolo, in quanto è proprio dai suoi ricordi, dalla sua mente, che riemergono quelli che sono stati i fatti più significativi, determinanti della sua esistenza. Diciamo che questo suo stato di salute non ottimale consente anche da un punto di vista registico di lavorare all'ingresso di tutte le figure che sono state importanti a livello storico. Come si diceva, Napoleone III ha avuto un ruolo importante nel far sì che Massimiliano accettasse poi il trono del Messico e sicuramente Massimiliano, quando accettò questo incarico così prestigioso e così importante, non aveva visto tutte le carte, non era a conoscenza di tutti gli elementi che avrebbe poi trovato in Messico e da lì poi nasce la vicenda, tutti quelli che sono i problemi e le difficoltà che Massimiliano e Carlotta hanno dovuto vivere nel nuovo mondo e che hanno portato a conseguenze piuttosto complicate sia dal punto di vista della mente di Carlotta che della fine tragica di Massimiliano. C'è un bellissimo film degli anni 30 dove Carlotta è interpretata da Bette Davis, il titolo si chiama Il conquistatore del Messico, più semplicemente Juarez. Dove in questo film anche la figura politica di Massimiliano è ricostruita con grande accuratezza per essere un film oligodiano degli anni, fino agli anni 30. Sì, è veramente un film che consiglio di vedere perché… Ogni tanto gira anche nelle televisioni. Sì, ogni tanto gira, io naturalmente recentemente l'ho rivisto più volte perché è molto interessante come vengono dipinte queste due figure, da un lato Benito Juarez che sostanzialmente diviene in qualche modo ad essere il nemico di Massimiliano, anche se questo loro essere nemici e avversari in qualche modo è anche un elemento nel quale rientrano tanti altri fatti storici e quindi si vede nel film, questo è molto bello, molto interessante, come Benito Juarez da una parte e Massimiliano dall'altro abbiano di fondo alcuni principi di giustizia e anche un certo rispetto appunto verso il popolo che li rendono simili per alcuni aspetti. Nel film è molto interessante perché c'è questa parola democrazia che in qualche modo li differenzia e li divide. Pur se Massimiliano cercava di introdurre una Costituzione in Messina. Sì, Massimiliano aveva anche ad un certo punto cercato di coinvolgere Benito Juarez facendolo entrare sostanzialmente nel suo gabinetto come primo ministro se non sbaglio. Juarez aveva appunto rifiutato perché aveva dal canto suo anche il sostegno degli americani a seguito appunto della fine della guerra di secessione americana con la vittoria dei nordisti, i nordisti erano i primi promotori della dottrina Monroe che voleva che gli americani fossero padroni delle Americhe e che non ci fossero interferenze straniere sul loro continente. Lo spettacolo è pieno di amici tra l'altro per dire la verità, perché abbiamo detto la Vividiz, il coro ad Uguline e al pianoforte, ci sono poi i movimenti di scena che sono curati da Maria Bruno Raimondi, c'è il coro nuovo auricolare, diretti da Monica Cesar e poi c'è il quartetto d'archi diretto da Piero Zannon che è anche lui che ha fatto le musiche. E in scena con te ci sono Miriam Cosotti che è Desumo interpreta di Carlotta, tu fai Massimiliano? No, 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 io sono il medico personale di Carlotta, sono colui che fa emergere. Già perché se fossi Massimiliano saresti biondo. No, 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 ho capito. Massimiliano chi lo fa? Ficcio? No, lo fa Alessandro Colombo e Nio Ficcio fa un Napoleone III davvero davvero esilerante. E poi c'è ancora Serena Arnaud che è una bravissima cantante, diplomata al conservatorio, musicista, cantante… C'è da dire che quando ci si mette nelle mani di E. Davidis, sempre, ma a maggior ragione quando si parla di Massimiliano d'Asburgo, ci si mette nelle… si va sul sicuro perché lei è una cultrice della figura di Massimiliano d'Asburgo, gli ha dedicato altri spettacoli, libri, quindi insomma è veramente… siete in una botte di ferro. Musicalmente com'è l'ora? Allora ci sono, come dicevo prima, alcuni brani che sono cantati da questo coro molto nutrito e veramente eccezionale, che appunto sono brani legati alla tradizione proprio degli anni di Massimiliano. e poi vi sono delle musiche completamente originali scritte sulle liriche di E. Davidis dal maestro Piero Zanon, violinista che ha suonato per tutta la carriera anche al Teatro Verdi, accompagnato da un quintetto d'archi e poi appunto il pianoforte il maestro Gulin. Quindi è uno spettacolo che alterna prosa e musica in un unicum diciamo coerente e legato assieme in modo molto asciutto, come piace a me, quindi cercando di raccontare i fatti storici, dando una pennellata per raccontare il carattere intimo dei personaggi e poi lasciando alla musica la possibilità di esprimere tutto quello che alle volte con le parole si fa più fatica a raccontare. Quindi musicisti di altissimo livello dal vivo, un coro eccezionale che in qualche modo rende più caldo il palcoscenico e riempie di atmosfere e poi degli attori cantanti che impersonano questi personaggi storici portandoci a scoprire degli elementi in più. Il tuo ruolo di regista qui come, cioè in che cosa ti sei concentrato maggiormente? Qual è stata la sfida anche? Perché ogni spettacolo propone per chi accetta di dirigerlo anche una sfida, insomma. Sì, diciamo la sfida è stata innanzitutto un lavoro molto dettagliato che abbiamo fatto insieme a Ed Davidiz sul testo, in modo da capire effettivamente per me anche come regista tutte le vicende della storia, essere informato su tutte le cose anche che non conoscevo, quindi un lavoro anche di studio, di scoperta e trovare anche poi il modo per rendere sullo spazio scenico quanto era stato pensato e messo su carta. Quindi il lavoro più importante iniziale è quello proprio sul testo, per rendere il tutto rappresentabile sulla scena e quindi da un punto di vista spaziale, da un punto di vista delle relazioni e dei rapporti. Poi c'è stato l'elemento della scelta del cast, che è stato anche quello realizzato assieme, quindi pensando anche le varie voci dei cantanti rispetto alle parti e poi il lavoro più bello che è quello con gli attori, diciamo quello che fa sì che si crei poi un nucleo, una compagnia, un gruppo, in questo caso siamo veramente molti, quindi il lavoro di coordinamento tra tutte le varie attività e il cercare di far sì che ciascuno possa, questo per me è importante, fare proposte, essere propositivo, quindi portare la propria idea sempre all'interno di qualcosa che sia ragionato e poi nel quale ci sia accordati tutti quanti assieme. Mi sono dimenticato di dire che c'è anche la collaborazione di Trieste 800, che è questa realtà che noi abbiamo conosciuto in questi giorni anche con cos'era il ballo in piazza un mesetto fa circa. Volevo chiederti una cosa che esula un po' da questo spettacolo, poi daremo alla fine tutti i raguagli ancora, mi incuriosisce un po' chiederti della tua attività con le scuole di teatro per i più giovani, che se non mi sbaglio non avete mai mollato, nemmeno durante la pandemia, insomma in qualche modo siete riusciti a… trovi che sia cambiato, che questi due anni hanno cambiato qualche cosa nelle persone che frequentano i corsi di teatro, in chi si approccia per la prima volta, c'è qualche cosa di cambiato oppure ringraziando Dio non è un problema di rimente? È molto interessante questa domanda, devo dire che noi abbiamo cercato rispettando le norme e le leggi che come sappiamo cambiavano molto spesso e a questo proposito voglio ringraziare Telequattro perché nel periodo soprattutto dell'inizio della pandemia quando eravamo tutti a casa, questo studio è stato un po' la casa di tutti i triestini e avete fatto un lavoro veramente civico di grande valore, quindi da cittadino vi dico grazie. Per rispondere alla domanda devo dire che noi abbiamo continuato il più possibile laddove c'erano le finestre per far sì che l'attività andasse avanti per un motivo molto semplice, perché crediamo che l'attività che facciamo abbia un significato profondo, non è semplice gioco o momento passatempo, è proprio un'attività a fare teatro, quindi mettersi in gioco, lavorare con gli altri, stare con gli altri che crea rete, crea connessione e in un momento come questo la rete e la connessione è la cosa di cui le persone avevano più disperato bisogno e quindi da questo punto di vista chi ha potuto continuare ha avuto una versione di questo periodo un pochino più lieve, un po' più sollevata, perché comunque non ha perduto completamente la socialità, che è poi l'elemento fondamentale che è mancato. Posso dire che nella fascia delle scuole medie e superiori ho notato soprattutto l'anno scorso, quando le cose erano ancora un po' ballerine, un aumento della fragilità, quindi una fragilità interiore, una tendenza un pochino a vivere con difficoltà certi passaggi e questo sicuramente l'ho notato in diversi casi, quindi ha inciso. E secondo te, al di là poi, in questo caso specifico, non tanto trovarsi assieme, ma proprio fare teatro, cioè entrare in panni altrui può aiutare? Sì, aiuta tantissimo, è una cosa che è come quei giochi da tavolo da 3 anni a 99, cioè aiuta a tutti, a qualunque età, perché è un gioco continuo che ci permette di metterci dal punto di vista dell'altro e di un altro ancora e di un altro ancora e ancora, quindi è davvero una grande opportunità che ci aiuta a riflettere e anche a rivivere in noi tutti i momenti della nostra vita, perché tutti quanti nel corso del giorno proviamo emozioni differenti in base al luogo in cui ci troviamo, siamo insultati da qualcuno, apprezzati, abbracciati da un altro, venerati da qualcun altro e odiati da qualcun altro ancora e questo mettersi nei panni di tutti quanti è un elemento davvero molto importante e partendo già da ragazzi, da piccoli, questo tipo di allenamento aiuta. Posso dire però che anche sia i piccoli che i grandi in questo tipo di attività poi hanno immediatamente recuperato, nel senso che poi le forze di recupero sono sempre incredibili, quindi anche dopo gli stop, chi magari non è venuto per qualche periodo eccetera, vedo che poi queste energie sono talmente forti che si supera e anche forse si riesce a dimenticare nel modo giusto, che significa non dimenticare completamente ma riuscire ad andare oltre. Quello che diceva, tanto per citare uno che di teatro se li intendeva qualcosa, Michael Redgrave, diceva che l'attore deve mettersi nelle scarpe di un'altra persona, però poi alla fine deve togliersi quelle scarpe, se no sono errori. E poi le scarpe sono importantissime perché, io vi dico sempre, un attore si vede da come entra in scena, da come mette i piedi e la differenza tra un personaggio e un altro è proprio quella, il modo di camminare, il modo di appoggiare i piedi indica già in chi osserva con un pochino più di attenzione se quell'attore ha in qualche modo il personaggio dentro di sé, che significa essere presenti, non fare chissà che sto entrando nel personaggio, quelle cose da cliché diciamo, ma significa proprio avere pienamente le emozioni del personaggio dentro di sé in quel momento e quindi sentire quel qualcosa che si può trasmettere. Mi sembra adesso di ricordare che credo fosse Shirley MacLaine, la quale diceva che lei era sicura delle sue performance quando capiva come il personaggio avrebbe camminato. Ed è una… Sì, farò attenzione adesso a questo punto. È uno degli elementi chiave. Perché significa essere padroni probabilmente. Allora, abbiamo tempo solo per ricordare l'appuntamento che… Allora, lo spettacolo si intitola Adios Mamà Carlotta ed è in scena mercoledì 7 dicembre alle ore 20.30 al Teatro Bobbio. Esattamente. Elemento molto importante, questo spettacolo nasce per fare beneficenza nei confronti del Burlo Garofolo. Quindi un elemento in più per venire a teatro e vedere uno spettacolo sulla nostra storia godibile, con momenti emozionanti, momenti divertenti e anche momenti in cui si approfondisce proprio la vita di questi personaggi, ma soprattutto per fare beneficenza nei confronti del Burlo. Noi ci teniamo moltissimo e appunto ci auguriamo che tutti quelli che possono vengano a teatro mercoledì 7 dicembre alle 20.30 al Teatro Orazio Bobbio che ci ospita dopo un problema tecnico che c'è stato con il Teatro Rossetti. Quindi siamo al Teatro Orazio Bobbio appunto il 7 dicembre. Biglietti, ticket point di Corso Italia, ma immagino anche la sera. Sì, i biglietti saranno venduti in realtà sia al Teatro Rossetti che avrebbe dovuto ospitarci precedentemente e che comunque continuerà a vendere i biglietti per questo evento anche se si svolge al Teatro Bobbio e poi saranno venduti anche dal Teatro Bobbio entro uno o due giorni appena ci sarà questo passaggio tecnico della biglietteria da una pianta del teatro all'altra. Grazie a Giulia Sgherla per essere stato con noi, buon lavoro e saluto a tutte le persone coinvolte in questo spettacolo. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, ci vediamo alle 18 con Trieste in diretta.